buongiorno e benvenuti nel mio canale se siete in un computer per scoprire le dimensioni di una foto di una immagine è piuttosto semplice per esempio si apre esplora file questo windows che va nelle immagini si cerca un immagine qualsiasi ci si clicca sopra con il destro del mouse si va su proprietà questo è windows 11 ma è uguale anche su windows 10 guardando su proprietà si apre questa finestra in cui andare su dettagli e in dettagli si vede tranquillamente questa immagine una dimensione di 1920 x 1280 pixel chiaramente si può provare anche con un'altra immagine per questo il resto del mouse per me la dettagli e questa dimensione di 5184 x 3456 pixel ora con il computer si può anche ritagliare l'immagine che si può anche ridimensionare a delle dimensioni di larghezza e altezza ben definite lo si può fare con il programma kim perché è gratuito adesso io non sto a mostrarvi come si fa perché l'ho già fatto un altro video eventualmente vi linkerò sia video sia guida testuale per chi fosse interessato a conoscere questa funzionalità di kim per se per se però vogliamo conoscere le dimensioni di un'immagine su android e eventualmente ritagliarla e eventualmente ridimensionarla come si fa bisogna utilizzare una applicazione specifica ovviamente ce ne sono tanti io faccio vedere questa che è proprio adatta per questo scopo si chiama foto and pictures resizer e con questa applicazione che è gratuita con annunci si potranno ritagliare le immagini si potrà vedere di che dimensioni hanno queste immagini perché delle volte non si sa anzi solitamente su android non si conosce le dimensioni delle immagini non ci viene mostrato come conoscere le dimensioni come ritagliarle e come eventualmente ridimensiona quindi adesso passiamo a android per vedere come si usa questa applicazione che chiaramente dovrà essere prima installata si va installa e si installa gratuitamente non occorre neppure registrazione o account si apre l'applicazione e si concedono tutte le autorizzazioni io le ho già concesse e quindi vedo subito la home page come vedete si può selezionare una foto scattare una foto oppure andare direttamente sulle foto ridimensionate che appunto quelle che abbiamo editato con questa applicazione oppure se lo si può fare anche con un video questo per esempio è una cosa nuova una funzionalità nuova che però adesso non mi metterò a utilizzarla perché questo video è specifico appunto per ridimensionare ritagliare e trovare le dimensioni di una foto qui si va su seleziona una foto qui e chiaramente si apriranno le foto immagini recenti che sono presenti sul sul nostro cellulare oppure si potranno sfogliare le immagini che sono presenti su sul cloud cioè su google drive su dropbox su one drive perché io ho appunto degli account a questi cloud ma chiaramente solo non ce li hanno non vede non vede queste impostazioni ma se non ce li ha può scegliere delle immagini anche da questi cloud per esempio prendiamo selezioniamo una foto qualsiasi selezioniamo questa per la aperta come vedete qui in alto si vede subito la sua dimensioni del 920 per 1280 pixel già questo è un buon risultato che si capisce subito che dimensioni ha che non è detto che su android non vengono in genere mostrate in basso possiamo andare su ridimensiona per magari modificare le dimensioni delle immagini si va su ridimensione quindi si può scegliere una percentuale vedete del 25 per cento del 40 per cento del 50 per cento del 75 per cento oppure si può andare su personalizzata si può scegliere un altezza per larghezza diciamo di standard oppure una dimensione del file andando oppure addirittura su personalizzata vedete andando su personalizzata si può scegliere chiaramente una percentuale che ci fare io acqua su personalizzata e e quindi si può impostare noi la la dimensione per esempio 640 per 426 ma possiamo metterci per esempio 800 nel momento in cui si lascia la spunta a mangiare il rapporto di aspetto la dire sarebbe l'aspetto ratio chiaramente viene automaticamente calcolato anche quant'è l'altezza se io ho digitato la larghezza viene calcolato l'altezza in modo di avere lo stesso rapporto tra larghezza e altezza se io lo tolgo chiaramente allora metto per esempio 900 questo non cambia invece io metto qui e metto qua mille ecco qua che automaticamente viene impostato anche la nuova dimensione per l'altezza chiaramente lo posso fare anche per l'altezza posso mettere per esempio qua mille qua e allora vedete qui viene 1500 da questa altra parte si vede subito che il rapporto di questa immagine 3 a 2 chiaramente si vede basta fare la frazione 1500 diviso 1000 e viene un 3 a 2 si vada ok su ok verrà quindi ridimensionata questa foto ridimensionamento eseguito c'è un po di pubblicità chiaramente in tutti questi programmi gratuiti c'è la pubblicità e questa è la coppia vedete 1500 per 1000 si può rinominare andando qua e si mette un nome personalizzato bionda ridimensionata che abbiamo visto ridimensionare e si può anche scoprire quant'è la dimensione di una immagine ovviamente si può anche ridimensionare non solo secondo le dimensioni ma secondo la dimensione del file andando su ridimensiona come vedete qui c'è la ridimensione percentuale la dimensione in numeri di larghezza e altezza e la dimensione e la dimensione del file si può mettere per esempio che deve avere una dimensione di soli di 100 kb se si mette di 100 kb ecco che viene fatta una bionda ridimensionata a 100 kb vedete è diventata però di 405 per 270 pixel quindi molto molto più piccola si può fare anche delle rotazioni sempre si va a rotazione vedete per poi salvarla chiaramente poi si può rinominare viene raggiunto sempre un numero più uno si sceglie e poi si fa su rinomina e magari si mette bionda ridimensionata e ruotata che ne so ecco fatto e si fa su rinomina e quindi è stata ruotata e adesso vediamo invece come ritagliarla si sono indietro da su selezione foto come vedete sono stata già aggiunto nella galleria questa foto che abbiamo noi modificato scegliamo un'altra foto che procediamo questa ecco fatto come vedete vediamo subito la dimensione 1920 x 1280 pixel adesso vogliamo ritagliare si va su ritaglia a questo punto noi possiamo ritagliarla impostando le dimensioni per esempio vedete si può ritagliare così oppure si può impostare le proporzioni andando su proporzioni si può scegliere per esempio proporzione di 16 noni ecco quindi noi possiamo fare in modo che questa foto diventi con un aspetto ratio di 16 noni cioè con la larghezza che sta a 16 come l'altezza sta a noni a 9 oppure possiamo andare su proporzioni e magari scegliere una proporzione diversa cioè tre mezzi ecco che allora possiamo impostare la dimensione di 3 mezzi che praticamente è la stessa quello originale perché originariamente 1920 x 1280 è proprio una dimensione di 3 mezzi oppure possiamo andare sul libere e allora possiamo impostare la nostra immagine secondo proprio quello quello che ci fare a noi con impostando il rettangolo come ci fare in questo caso si va su ritaglia per poi salvare l'immagine ritagliata ecco fatto anche qui in questo caso possiamo rinominarla la chiamiamo immagine ritagliata e se va su rinominarla possiamo anche poi successivamente condividere l'immagine poi sostituire l'immagine che abbiamo modificato a quella originale torniamo indietro se andiamo su seleziona foto adesso vedremo naturalmente come vedete alle foto che c'erano prima si è stata aggiunta anche questa che è stata ritagliata se noi la fiamo visualizzeremo la sua dimensione che è attualmente 938 x 722 pixel e questo più o meno è tutto per quello che riguarda lo scoprire le dimensioni di una foto su android ridimensionare una foto su android secondo la larghezza e la altezza oppure secondo il peso oppure secondo le proporzioni o ancora secondo la percentuale e anche come ritagliare una immagine con un rapporto tra larghezza e altezza dato per esempio 16 noni o tre mezzi oppure anche con un rapporto a piacere cioè libero impostando direttamente il rettangolo con cui ritagliare la foto stessa tutto questo lo si fa con questa applicazione che si chiama foto in pictures resizer e questo è tutto per questo tutorial alla prossima volta